C'è un nano che entra in un bar, cammiglia, arriva al bancone, ma il bancone giustamente era la città più alta di lui. Allora da sotto si mette a fare così, una birra, dopo un minuto, una birra, oh voglio una birra, si dice questi non lo sentono, allora che cominci a saltare, una birra, una birra, una birra, niente, dice già faccio più, faccio il giro del bancone, fa il giro del bancone, come gira dall'altra parte c'è un altro nano che fa, da che marca?